Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Il Popolo Santo. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Un popolo fedele prega al proprio Signore Onnipotente e tramite le speranze grandiose offre un degno splendore per cercare nelle proprie addempienze quel segno caritatevole che sviluppa nella unione societaria e tra la gente fedele. Il Popolo Santo quindi si comporta secondo le leggi sacre e ottiene quindi delle giuste sfere di onnipotenza. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Il Popolo Santo. Un popolo fedele prega al Signore, mostra le degne speranze, è tanto candido splendore unito a precise adempienze. Un popolo caritatevole invoca, con lode l'Onnipotente e con speranza colma di vita ottiene fede imperante. Il Popolo Santo si comporta secondo le leggi sacre e tanta vitalità apporta per donarla nelle giuste sfere. Il Popolo Santo vive della degna providenza e ad ogni malignità sopravvive con fede potente e santa rilevanza. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.